mamma mia mamma mia ciao a tutti che lavata completamente franato di diluvia un po' di moto si vedete che ci passano proprio tutti eh guardalo guardalo bene oggi un attacco micidiale aspettiamo il papis e via in su ne ho montato la iGrawler 2 DD 3C max terra TR anche qui tutte le sigli vediamo questa me ha fatto un'ottima impressione sulla Santa Cruz 27 e mezzo curiosissimo di vedere 29 oggi terreno fangosissimo ha piovuto a bestia tutta la settimana piove anche oggi faremo una roba molto corta anche perché si inizia così si spinge l'e-bike la potenza e il gas che non si riesce da rogari alla giusta dose e quindi la ruota dietro tempo da lupi tutto bagnato già forse è il giro più corto della storia però la strada di papis atto terzo atto che taglia oggi tutta salita grande papis castellino di state bellissimo l'idea è quella di tenere la cresta qui e fare le roccette finali se le mettiamo che roba che roba c'è tutta la vita qua dentro ragazzi è un parco jove 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 non me lo appoggerà mai nessuno non me lo appoggerà mai nessuno è un parco jove quattro sassi papis due bambini di quattro anni praticamente no non è meravigliato no non è meravigliato no non è meravigliato vai vai papis vai vai papis ti vedo un cazzo sara lì qua sara sara A presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti